Tanta delusione per l'esclusione di Roma dall'Expo 2030, le risorse messe in campo da Riada hanno prevalso, ma la scottatura del sindaco di Roma Roberto Gualtieri è netta. La città eterna non solo non è arrivata prima, ma non è nemmeno riuscita ad arrivare seconda all'esito delle votazioni. Roma è stata superata persino da Busan, la principale città portuale della Corea del Sud. A fronte dei musilunghi e di qualche recriminazione c'è chi invita a guardare avanti. Il Lazio non si ferma certo davanti al terzo posto di Roma ad Expo 2030, certo ci saremmo aspettati un risultato diverso e per questo abbiamo lavorato fino alla fine tutti insieme. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, commenta così la brutta sconfitta di Roma nella gara per aggiudicarsi Expo 2030. Da ieri ufficialmente in mano agli arabi, il governatore spiega alla stampa, adesso continueremo a lavorare con la stessa determinazione e passione per cambiare in meglio la qualità della vita dei cittadini.